Interventi di adeguamento per migliorare la viabilità urbana. Il Comune di Terra Nuova a Berciolini ha infatti pubblicato la procedura di gara che porterà all'assegnazione dei lavori di tre importanti interventi. Per il valore di circa un milione di euro, un intervento molto importante per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità riguarderà l'ampliamento della via di Paperina, che oggi è una via abbastanza stretta a cui accedono molti residenti del quartiere e verrà portata a sei metri di larghezza complessiva e soprattutto sarà anche dotata di un adeguato marciapiede di un metro e mezzo. Dopodiché ci sarà un intervento che riguarda via Vittorio Veneto nel tratto che inizia da via Aldomoro e viene verso il centro della nostra città dove verrà realizzato anche qui un marciapiede. L'ultimo intervento, ma non in ordine di importanza, anzi da un punto di vista economico-finanziario è quello più cospicuo, è la realizzazione di una nuova viabilità di fronte al lupo che interessa sempre via l'Europa e le vie che si intersecano. Lì verrà realizzata quella che potremmo definire una quadrirotatoria perché è una rotatoria ma non è rotonda, è quadrata. All'interno ci sarà un'area verde e sui lati si snoderà la viabilità e verranno fatti interventi di riqualificazione anche sul parcheggio antistante. Iniziano i lavori, infine, anche il circolo della Cicogna, un investimento di 18 mila euro di risorse comunali. I circoli, in particolar modo nelle frazioni, sono i cuori pulsanti della nostra comunità e quindi è giusto e doveroso che l'amministrazione li supporti intervenendo anche tempestivamente. Quindi in questa settimana iniziano i lavori sulla copertura, lavori che dovrebbero durare circa due settimane e quindi puoi rendere nuovamente fruibile il circolo a tutti i cittadini.